Sostanzialmente noi chiediamo anche alla luce delle due recenti aggressioni al personale sanitario solo nei primi dieci giorni di settembre, chiediamo una presenza dei vigilantes all'interno di fronte soccorso, una presenza fissa, perché ad oggi i vigilantes sono impegnati anche in un servizio di controllo, non sono assegnati ad una singola unità operativa, ma bensì sono i vigilantes di presidio. Quindi ciò comporta che loro devono necessariamente controllare diversi punti all'interno del presidio e questo loro giro di controllo li porta ad assentarsi dal pronto soccorso con le conseguenze che conosciamo. In questo ultimo periodo ci sono state diverse aggressioni, le ultime sono accadute a fine agosto e a metà settembre, quindi parliamo di qualche giorno fa, e nel caso dell'aggressione avvenuta a metà settembre presso il pronto soccorso di Giulianova, entrambi i sanitari che si sono imbattuti in questo utente particolarmente aggressivo sono stati refertati perché sono stati picchiati. La ASL ad oggi ha emanato una procedura che consiste in tutta una serie di comportamenti che il personale sanitario deve adottare e in una cartellonistica che va posta all'interno dei pronto soccorso che faccia capire anche all'utenza cosa vuol dire rispettare il personale sanitario. Purtroppo questo non basta e gli ultimi accadimenti ne sono la riprova. chiediamo fermamente la presenza di un vigilante in maniera fissa almeno all'interno dei pronto soccorsi.